L'immagine ha fatto il giro del mondo ed è stata già eletta foto del secolo. Per la prima volta un sistema di telescopi, l'Event Horizon Telescope, piazzati in diverse stazioni sulla superficie terrestre, ha immortalato un buco nero proveniente dalla galassia M87, super massiccio, grande più di 6 miliardi di volte la massa del sole e distante circa 55 milioni di anni luce. Ne parliamo oggi con Roberto Turolla, professore di Astronomia e Astrofisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora professore, noi abbiamo fotografato un buco nero ma in realtà non si tratta esattamente di una foto e, punto secondo, il buco nero in realtà non possiamo esattamente vederlo, non per nostri limiti tecnologici o computazionali ma per la natura stessa del buco nero. Allora partiamo da questo secondo punto, ci spiega un po' che cosa vediamo esattamente in quell'immagine? Assolutamente, come dice lei, un buco nero se fosse isolato, non circondato da materia sarebbe assolutamente invisibile, primo perché è nero, due perché è molto piccolo. Il fatto è che un buco nero attrae gas, polveri dall'ambiente circostante, in questo caso stiamo parlando di buchi neri supermastici al centro di galassie, quindi il materiale da attrarre c'è, il materiale cadendo sul buco nero si riscalda, riscaldandosi emette radiazione elettromagnetica ed è proprio la radiazione elettromagnetica che proviene dalla parte più interna di questa struttura gassosa che circonda il buco nero che è quella che appare luminosa nell'immagine che ha fatto il giro del mondo. E quello che vediamo è sostanzialmente il confine tra una parte luminosa, una cintura luminosa e il buco nero e questo confine si chiama orizzonte degli eventi, giusto? Ci spiega che cos'è l'orizzonte degli eventi? Sì, in realtà quello che si vede nell'immagine o meglio il confine tra la zona luminosa e la zona scura non è esattamente l'orizzonte degli eventi perché l'orizzonte degli eventi sta un po' più dentro, il bordo dell'anello, del disco di materia che accresce, che cade orbitando intorno al buco nero sta un po' più fuori dell'orizzonte degli eventi. L'orizzonte degli eventi è una superficie ideale, matematica, non esiste una superficie solida che corrisponda all'orizzonte degli eventi e che si comporta come una membrana semipermeabile, cioè può essere attraversato soltanto in una direzione, muovendosi dall'esterno verso l'interno. Una volta che una particella, un raggio luminoso è penetrato al di sotto dell'orizzonte degli eventi, non ha altro destino che quello di continuare a cadere verso la singolarità centrale. Quindi diciamo un buco nero si comporta come un grande aspirapolvere con la differenza che quello che cade all'interno, che viene aspirato all'interno non è più possibile farlo uscire. È una sorta di punto di non ritorno insomma. L'orizzonte degli eventi rappresenta in un certo modo il luogo di non ritorno. Se mi muovo al di fuori dell'orizzonte degli eventi posso sempre invertire la direzione del moto e portarmi a grandi distanze dal buco nero. Se sono sotto l'orizzonte degli eventi questo non è più possibile perché richiederebbe che la particella si muovesse a velocità superiori a quella della luce. E dicevamo anche che in realtà non si tratta di una vera e propria fotografia scattata ma piuttosto di una rielaborazione informatica e grafica che è stata fatta a partire da una serie di dati radio che sono stati raccolti da questo sistema di telescopi, l'Event Horizon Telescope, che sono piazzati in diverse stazioni in giro per la Terra. Ci spiega un attimo come funziona allora l'Event Horizon Telescope. Allora l'Event Horizon Telescope sfrutta un principio che si chiama interferometria e che consente di raggiungere delle risoluzioni angolari estremamente spinte ed è solo grazie a questo tipo di tecnica che è possibile ottenere un'immagine ricostruita che mostra in dettaglio una struttura così piccola e così lontana. Forse è necessario tenere presente che riuscire a fare un'immagine di quel tipo è equivalente a riuscire a mettere in evidenza una moneta da 2 Euro sulla superficie della Luna. Questo si fa preferenzialmente usando onde radio e non luce visibile o radiazione elettromagnetica più dura come i raggi X, proprio perché l'interferometria ben si presta ad essere usata nelle onde radio. Si tratta di un'immagine ricostruita, ma d'altra parte qualunque immagine astronomica ai giorni nostri non è certo una fotografia, ma è comunque un'immagine ricostruita. Ricordiamo che dietro questa ricostruzione dell'immagine c'è una ricercatrice, Katie Bauman dell'MIT di Boston, che ha lavorato all'algoritmo che ha tenuto insieme tutti questi dati provenienti dall'Event Horizon Telescope, ricercatrice che è stata addirittura associata, accostata a Margaret Hamilton che nel 1969 aveva scritto il codice sostanzialmente che aveva aiutato l'uomo ad arrivare sulla Luna. Sì, l'analisi dati è stata sicuramente molto lunga e complessa, anche perché come veniva sottolineato durante la conferenza stampa, i dati erano contenuti in una serie di hard disk e questi hard disk sono poi stati raccolti e trasferiti fisicamente tutti insieme in un unico luogo dove i dati poi sono stati analizzati. Senta, nell'immagine che vediamo c'è questa appunto cintura di luce attorno al buco nero centrale e in alcune zone la luce è più gialla e in altre più rossa. C'è una spiegazione per questo? Sì, c'è una spiegazione. Si tratta di un'immagine che è stata costruita utilizzando quelli che vengono detti falsi colori, in cui la scala dei colori, quindi l'intensità, la brillantezza, corrisponde effettivamente all'intensità del segnale che viene ricevuto. Una parte del disco che si vede è più chiara, più brillante, proprio perché in realtà il disco sta orbitando, la materia che forma il disco sta orbitando attorno al buco nero con velocità che sono prossime alla velocità della luce e per una serie di effetti relativistici, effetto Doppler, Beaming relativistico, quando la materia emette verso di noi ci appare più brillante. Questo spiega perché la fotografia, l'immagine ha colori diversi sull'anello a seconda della posizione che guardiamo sull'anello. Tra l'altro in questo caso l'anello viene visto quasi giacere nel piano del cielo e questo per certi versi è un po' una circostanza sfortunata perché la deformazione della forma dell'anello prodotta da effetti di relatività generale sarebbe stata più pronunciata se l'anello fosse stato visto più di taglio e questo avrebbe permesso in maniera molto diretta di ricavare alcuni importanti parametri fisici che caratterizzano il buco nero, soprattutto la velocità con cui il buco nero ruota su se stesso. In questo caso probabilmente sarà possibile ma richiederà uno sforzo superiore. E inoltre il centro del buco nero non appare perfettamente circolare ma piuttosto ovale o se vogliamo ellittico. Perché? È proprio una conseguenza di quello che dicevo prima. I raggi luminosi emessi vicino all'orizzonte degli eventi vengono curvati dal campo gravitazionale intensissimo prodotto dal buco nero per cui vicino a un buco nero la luce non si propaga seguendo linee rette ma seguendo traiettorie curve. Questo produce una deformazione dell'immagine che è caratteristica e che è stata predetta molto tempo fa e ci sono stati calcoli dettagliati proprio riferiti a questo caso già negli anni 80. Quindi la forma non perfettamente circolare è proprio dovuta a questo effetto di lente gravitazionale prodotto dal campo gravitazionale del buco nero. E un altro aspetto interessante di questa immagine è che in parte arriva in attesa perché in realtà il team di scienziati che stava lavorando questo progetto inizialmente avrebbe voluto fotografare tra virgolette un altro buco nero, Sagittario 6 Star, che è quello al centro della Via Latte della nostra galassia, vista tra virgolette solo 26.000 anni luce. Come mai non sono riusciti a fotografare quel buco nero? Allora diciamo i dettagli non sono ancora noti perché non è ancora comparso nessun preprint ufficiale della collaborazione. Quindi tutto quello che sappiamo viene dalla conferenza stampa, dalle conferenze stampa che sono state fatte due giorni fa. Il fatto di aver scelto un buco nero in una galassia esterna in realtà è un ottimo compromesso perché il buco nero che è stato osservato ha una massa, lo ricordava prima lei, circa mille volte più grande della massa di Sagittario 6 Star, siccome le dimensioni dell'orizzonte scalano con la massa, la galassia esterna in cui è stato osservato il buco nero è molto più lontana da noi del centro galattico, circa un fattore mille, il buco nero è mille volte più massiccio, la galassia è mille volte più lontana, l'angolo sotto cui si vede il buco nero è circa lo stesso in entrambi i casi, quindi la misura è stata possibile.